Si è svolta all'interno di una megastruttura appositamente allestita sul circuito di Fiorano Modenese la presentazione della Ferrari stradale più potente di sempre, la SF90 stradale da 1000 cavalli. Il nome della SF90 stradale richiama la celebrazione dei 90 anni della scuderia Ferrari e sottolinea lo stretto legame che è sempre esistito tra il mondo delle corse e le vetture da strada. Come per la GTO, la F40, la F50, la Enzo e la LaFerrari, il progetto 173 rappresenta l'apice delle prestazioni, della tecnologia e del design Ferrari. La nuova SF90 stradale è un'auto estrema che offre livelli di prestazione finora mai visti su una vettura di serie. I 1000 cavalli di potenza massima permettono un rapporto peso-potenza di 1,6 kg cavallo per un'accelerazione da 0 a 100 in 2,5 secondi. La SF90 stradale è anche la prima sportiva Ferrari a essere dotata di trazione integrale e 4-wheel drive, uno step necessario per sfruttare appieno l'incredibile potenza offerta dal propulsore ibrido. Il V8 eroga a 780 cavalli e i tre motori elettrici 220 cavalli in tutto. La SF90 stradale può percorrere fino a 25 km in modalità completamente elettriche fino a 135 km orari, dotata di ammortizzatori speciali Multimatic derivati dalle GT, molte componenti in fibra di carbonio e spoiler posteriore a elevato carico.